Oggi presentiamo il Transformer Prime, il Transformer di seconda generazione, rispetto al prodotto della generazione precedente, è un prodotto estremamente rinnovato, nello stile, nel design, nelle funzionalità. Si presenta con una librea in alluminio, color ametista, dal profilo estremamente sottile, il più sottile pad presente sul mercato, 8,3 mm, estremamente leggero, soltanto 580 grammi per il pad, estremamente accattivante nell'aspetto. La piattaforma ovviamente su cui si basa non è da meno, è il primo pad al mondo a offrire un processore di tipo quad core, stiamo parlando del processore di nuova generazione NVIDIA Tegra 3, il primo pad al mondo ad offrire Android nella versione 4.0 Ice Cream Sandwich. Diciamo al di là di questi primati è un prodotto sorprendente per completezza di dotazione e caratteristiche tecniche. Nei vari miglioramenti che ci sono stati rispetto alla versione precedente, si è passate ad incrementare il livello dell'autonomia, si arriva a 18 ore in abbinata fra tastiera e pad, 12 ore per l'utilizzo esclusivo del semplice pad. Ovviamente fa pregio diciamo di quello che era stata la caratteristica principale del suo predecessore per cui in maniera estremamente semplice io trasformo il semplice pad per un utilizzo con il massimo comfort in perfetta mobilità fino appunto a ricomporlo in maniera altrettanto immediata per ottenerne appunto un notebook vero e proprio. Parliamo di notebook non soltanto perché il processore quad core è in grado di offrire una potenza decisamente importante per questa classe di prodotto, ma perché è un prodotto estremamente completo. Al di là della suite già integrata Polaris Office che consente una totale compatibilità con il pacchetto Microsoft per cui la possibilità di aprire e modificare anche attraverso il supporto della tastiera file di tipo Word, Excel o PowerPoint o la possibilità tra l'altro di impiegare tutta una serie di servizi cloud che rendono diciamo l'impiego ancora più immediato e intuitivo. Ad esempio offrendo nuove potenzialità e questo è il caso dell'opzione My Desktop che consente in maniera immediata il controllo remoto di un altro pc. Semplicemente con un singolo click avvio il programma, effetto una scansione che rileva direttamente il pc collegato alla stessa rete, un altro click ancora e automaticamente ho la possibilità di controllare un pc attraverso il pad. Controllare il pc significa avere un accesso diretto direttamente alle risorse del pc, per cui io non mi limito a visualizzare semplicemente quello che accade normalmente nel pc, ma lo controllo direttamente potendo andare a controllare risorse del sistema, potendo andare a controllare in tempo reale, a lanciare direttamente delle applicazioni e poter avere accesso diretto a quelli che sono i contenuti del sistema, andando a superare anche l'ostacolo di una visualizzazione non particolarmente confortevole su uno spazio più distretto a 10 pollici, per cui andando anche a poter interagire anche con comandi estremamente più difficili da raggiungere, supponendo appunto che Windows 7 piuttosto che Windows XP non siano nati per essere ottimizzati per il controllo con direttamente una levita. In particolare c'è la possibilità di accedere, vi dicevo, i contenuti, ma non soltanto contenuti documenti e file di lavoro, addirittura la possibilità di supportare lo streaming diretto di contenuti multimediali, potete vedere come in questo caso un video venga trasmesso praticamente senza ritardo dal pc al pad, considerando che appunto è il pad che continua a controllare la riproduzione del pc. Per cui io posso ad esempio bloccare la riproduzione piuttosto che continuare a riprenderla e ovviamente avviare altro tipo di contenuti. Questo appunto con l'immediatezza e con la reattività che questa applicazione consente di ottenere anche perché è un'applicazione ottimizzata per sfruttare a pieno il Tegra 3, per cui la potenza messa a disposizione dal processore Quad-Core. Ovviamente i servizi di cloud non si limitano soltanto a questa applicazione di controllo remoto, con la quale io posso controllare un pc addirittura dall'altro capo del mondo con la stessa reattività e velocità, ma ad esempio l'opzione MyNet consente uno sharing dei file multimediali fra diversi dispositivi. Per cui potete immaginare la facilità con cui, ad esempio fra un pc, un media player in salotto e lo stesso pad, io possa dialogare addirittura con tutti e tre anche contemporaneamente e trasferire in maniera bidirezionale i contenuti dall'uno all'altro. Ovviamente le potenzialità del pad non si esauriscono qui, il processore Tegra 3 consente di poter trarre massimo vantaggio, soprattutto in ambito gaming, dove appunto le applicazioni sono in grado di dare il meglio di sé. Non soltanto le applicazioni più tradizionali ne avvantaggeranno in termini di velocità e di frame rate, ma addirittura la possibilità di sopportare anche direttamente il 3D, per cui per un'esperienza di gioco che diventa ancora più interessante e ancora più coinvolgente, sostanzialmente identificando in questo dispositivo, così leggero, così anche elegante, così sottile, una vera e propria console di gioco estremamente potente. Al di là delle prestazioni al livello massimo offerte dal Tegra 3, ovviamente è possibile settare il livello di risparmio energetico in modo tale da risparmiare l'autonomia del pad. In questo caso, con il livello di risparmio energetico attivato, si riescono a raggiungere le 12 ore, considerando una riproduzione continua di file in alta definizione 720p. Abbiamo già girato un video, adesso proviamo a importarlo direttamente nel programma Cyberlink PowerDirector per testimoniare le potenzialità del processore Qualcora ancora una volta. Questo è il nostro effetto, lasciamo la musica di default, decidiamo di esportarlo in un formato che sia agevole e anche direttamente da condividere. Vedete il tempo che è decisamente basso rispetto a quello che sarebbe ottenibile da un processore di diversa generazione, nel giro di una trentina di secondi avrò importato del video in risoluzione 1080p all'interno di un set che consentirà di aggiungere effetti e scenografia decisamente interessante. E questo è il risultato finale. Grazie a tutti.